eccomi ancora qui in mezzo al caldo e alle zanzare nella stessa camera d'albergo di un anno fa un altro tizio è scomparso e mi hanno spedita un'altra volta a Pelican Pond nello stesso umido posto del caso Jackson e della storia dello stregone Morgan Altman chissà perché quel racconto continua a tornarmi in mente l'ho anche sognato qualche volta vero sì sì devo averlo anche sognato quella storia mi ha proprio spaventata come quando da piccola ascoltavo i racconti dell'orrore